Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Piere Zaghezzi, buonasera. Ieri al TAR di Milano si è tenuta la seconda udienza del ricorso da lei presentato a seguito di presunte irregolarità nei risultati delle elezioni di maggio. Quali novità ci sono? Buonasera. Le novità sono che il ricorso prosegue, che valutate la delicatezza e la complessità dell'analisi dei documenti il collegio giudicante ha deciso di esaminarlo la prossima settimana direttamente negli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale a Milano alla presenza degli avvocati di parte. Quindi è una riconferma di quello che avevamo già potuto valutare circa un mese fa. Il Tribunale vuole proseguire il ricorso. Tra l'altro, decisione analoga è stata presa anche per il ricorso di Aurelio Toriani. Ha avuto modo di sentirlo in queste ore? Sì, nella stessa giornata verranno esaminati sia i documenti relativi ai seggi 22 e 37 oggetti del nostro ricorso sia gli altri documenti riferiti sia ai seggi di cui ha il dottor Toriani chiesto il ricorso. Ci siamo sentiti, ci siamo velocemente sentiti perché io ero presente a Milano, lui non aveva potuto essere lì in Tribunale e ci siamo detti soddisfatti della decisione presa. Entrambi soddisfatti. Se dall'analisi di questi documenti dovessero essere confermate le irregolarità di cui stiamo parlando, che cosa accadrà a Voghera? Accadrà che il Tribunale dichiarerà l'illegittimità dell'elezione del dottor Barbieri. Inviarà alla Prefettura di Pavia la sentenza, la Prefettura di Pavia nominerà un commissario e il commissario preparerà nei tempi che riterrà opportuno nuove elezioni. Nel senso che si dovrebbe rifare solo il secondo turno e i contendenti dovrebbero essere il dottor Barbieri ed io che ho vinto il ricorso. In questi giorni ci sono molti argomenti di cui si parla sulla stampa locale, per esempio il servizio mancante di pre- e post-scuola. Il Comune ha chiesto tempo e pazienza, pazienza che però i genitori sembrano aver perso dato che addirittura 400 persone hanno aderito alla raccolta firme organizzata proprio da PD, Lista Civica e Italia del Rispetto. Ci sono novità a riguardo? In effetti la prima novità è che anche noi pensavamo, avevamo stimato una sottoscrizione intorno ai 300 genitori. Invece sono stati 400. Questa è la testimonianza di quanto sia forte e sentito questo mancato servizio. Il Comune non ha chiesto tempo. Il Comune nell'ultimo consiglio comunale ha comunicato che avrebbe velocissimamente chiuso la partita in senso positivo, avendo individuato una soluzione. Per la verità la soluzione l'avevamo individuata anche noi. Io mi ero mosso sia con il responsabile dell'Università dello Sport, il dottor Giovanetti, sia con, avevo interloquito con il dottor Rivera, che è il dirigente scolastico insieme alla dottoressa Boccalini. E lì si era individuato una via di uscita che intendeva concentrare sui plessi più significativi l'attività dell'Università sportiva e lasciare il presidio dei plessi meno importanti con scolari meno numerosi alle scuole. Stiamo aspettando ormai una decina di giorni che il Consiglio comunale ha ricevuto questa comunicazione, ma stamattina il servizio non è ancora efficiente. Quindi i tempi sono lunghi, noi avevamo deciso questa azione perché a 40 giorni dall'inizio dell'anno scolastico le cose non erano ancora a posto, i genitori ci avevano sollecitato a prendere in mano la questione. L'abbiamo fatto molto volentieri. Io ritengo che se 400 firme non sono sufficienti a dare consapevolezza all'amministrazione comunale della gravità del disservizio, vuol dire proprio che insieme all'incompetenza c'è la testimonianza di una distanza molto forte dell'amministrazione comunale dalla gente. Oltre alla scuola si parla molto anche di sanità. La guarda medica è senza ambulatorio, domani ci sarà una raccolta firme davanti all'ospedale. La sanità continua sulla città di Voghera ad essere in emergenza. Lo è stato per anni sullo Stroke Unit e auguriamoci che adesso finalmente il reparto funzioni. Lo è entrata in maniera pesantissima sul reparto di cardiologia che rischiava quasi la chiusura. Ricordo che è un reparto che serve non solo Voghera ma tutto l'oltre po'. La riorganizzazione regionale ha portato alla chiusura dell'ambulatorio della clinica di Santa Maria Le Grazie che svolgeva un'attività ambulatoriale con circa 10.000 interventi l'anno. Quindi è chiaro che bisogna essere efficienti, è altrettanto chiaro però che l'efficienza non passa per Voghera perché questi 10.000 interventi dovranno essere distribuiti in parte sulla città quindi gravando sulle attuali strutture e in parte saranno dirottati tra Papi e Vigevano quindi altri chilometri da fare. La guardia medica è un temannoso. È un temannoso, è già stato oggetto di spinte e di pressioni da parte dell'opposizione ma ancora una volta dobbiamo registrare la mancanza di soluzione. Quello che ci preoccupa davvero tanto e su cui stiamo ragionando insieme al Partito Democratico dell'Oltrepò è che l'ospedale di Voghera sta diventando un ospedale a mezzo servizio. Sono troppi reparti che lamentano disfunzioni. Per esempio funziona singhiozzo, meglio funziona singhiozzo la stessa TAC. C'è una TAC sola, è molto vecchia e spesso e volentieri i malati devono aspettare settimane per fare una settimana, mi dicono, per fare l'esame. Quindi il tema della sanità è un tema che è vero che non può essere presidiato direttamente dall'amministrazione comunale perché l'ambito è un ambito di responsabilità regionale. È anche vero però che anche nell'ultimo programma il sindaco Barbieri ha sottolineato all'inizio il ruolo che può e deve avere l'amministrazione comunale facendosi garante di 40.000 cittadini verso la dirigenza dell'ospedale di Voghera. Noi vogliamo farci garante. Noi con i mezzi che abbiamo a disposizione, con la volontà che abbiamo sempre dimostrato, continueremo la nostra battaglia. Perché attraverso questa raccolta firme, giusto? Anche che domani saremo con il Partito Democratico, insieme all'Italia del Rispetto, raccoglierà le firme a favore della presenza a Voghera dell'ambulatorio della Guardia Medica che, come sapete, è allocato nel paese di Casteggio.